Quella di oggi è una giornata importante e particolare per tutti gli infermieri del mondo, ma soprattutto per il personale infermieristico che ha operato all'ospedale di Pescara. C'è l'inaugurazione di questa rotonda e è un significato particolare in un anno particolare in cui il vostro lavoro è stato preziosissimo. Sì, sicuramente. Credo che gli infermieri hanno fatto la differenza, ma soprattutto le competenze messe in campo hanno fatto la differenza. Abbiamo visto nella pandemia quali sono state le competenze che ci venivano richieste, infermieri esperti in area critica, esperti nella gestione dei pazienti critici. E devo dire che questo non è mancato, anzi, c'è stata una massima dedizione, massima disponibilità, rientro dai turni, quindi senza il riposo, lasciando i propri cari, veramente mettendosi al servizio di quello che erano i bisogni dei cittadini. Ci dispiace anche molto per chi non ce l'ha fatta, perché purtroppo i numeri ci sono stati. Siamo stati presi veramente alla sprovvista, sia in termini di numeri di pazienti, sia in termini di complessità dell'assistenza che loro richiedevano. Se stiamo uscendo fuori e finalmente anche con la campagna vaccinale, dove si stanno prodigando anche gli infermieri per assicurare e praticare le dosi, è grazie a loro. Noi siamo sempre al fianco di queste persone, è un lavoro, come ben hai detto, che non ha mai termine, perché il lavoro dell'infermiere non è solo oggi in questa ricorrenza, ma è sempre. Quindi dobbiamo sempre ricordarcelo il loro lavoro. Infatti non a caso la rotonda è stata così devoluta a loro, perché tutti possiamo ricordarci di quello che fanno per noi. Era giusto che io fossi qui, che io li ringraziassi pubblicamente, dicendo anche che questo monumento che noi mettiamo qui all'ingresso dell'ospedale Covid, è un monumento che serve per ricordare ogni giorno che ci sono persone che si impegnano, si sacrificano per il bene degli altri e soprattutto per le persone che soffrono, per le persone deboli, per le persone che hanno bisogno non soltanto di una parola di conforto, ma anche un aiuto concreto.